ciao benvenuti nella magica atmosfera del mio lab mi trovo leggermente diversa però sono sempre io garantisco garantisco sono sempre io oggi vorrei rispondere amici rispondere ad una domanda che mi è stata fatta di recente qui su youtube però in realtà spunta sempre fuori e diciamo è anche il nostro cruccio dove dove possiamo acquistare i nostri materiali per fare gioielli bigiotteria tecnica wire forse non soltanto abbiamo penuria c'è penuria c'è penuria di posti di luoghi in cui comprare e questo soprattutto causa brexit perché non so se anche voi siete come me un po diciamo mamma non sono ancora abituata a vedermi con questi capelli va bene pazienza la brexit c'è un po tagliato le gambe perché prima potevamo acquistare per esempio io acquistavo molto da amazon uk ma anche adesso però devo stare attentissima perché ci sono i dazi ok come vi dicevo in uno scorso video il mio laminatoio è stato acquistato proprio su amazon uk perché mi permetteva di risparmiare qualcosa non era una grande differenza con amazon italia adesso non è più possibile perché con i dazi eccetera eccetera diventa una cifra veramente esorbitante una volta acquistavo acquistavamo molto anche dalla polonia però anche i nostri amici polacchi e come dare loro torto amici hanno alzato un pochino i prezzi però si può sempre valutare si può sempre andare a cercare e vedere un pochino i vari negozi che sono nati sono anche molto belli negozi polacchi e non solo anche bulgari tanto ora c'è google translate quindi potete affacciarvi sinceramente a varie realtà che non sono solamente italiane non per dire che in italia non abbiamo negozi e non abbiamo modo di acquistare ci mancherebbe altro abbiamo molte cose cominciamo con questi negozi perché la sto facendo un po lunga la pallina di roma la pallina e io ci sono stata fisicamente in quello che sta nel negozietto che è proprio negozietto ino 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 quello che sta in centro mi pare vicino a via del corso però non nel negozio grande quello in cui si fanno si facevano anche dei corsi che è un po esterno scusate non ricordo qui la via magari la scriverò da qualche parte e dove c'è tutto vedete tutto la pallina è interessante è cresciuto come sito negli anni ha molte cose potete provare a dare un'occhiata potete vedere se c'è quello che vi serve qualcosa sul wire anche cioè relativo alla tecnica wire quindi quindi attrezzi mi pare anche qualcosa di fili non aspettatevi proprio un monte di cose per la tecnica why wire però vi dico che il sito sia molto io acquistavo delle bellissime scatoline blu senza fiocco perché non amore di ciocchi sulle scatoline regalo confezione e non le trovo più per favore rimettetele in assortimento blu vi supplico blu perché è il colore che ho scelto blu e rosso i colori del mediterraneo scusatemi blu e giallo perché blu e rosso blu e giallo il sole e il mare sono i colori che io ho scelto come colori rappresentativi del mio marchio quindi volevo le scatoline blu e non le ho più trovate amen allora la pallina è da guardare è interessante e secondo hanno beat smith e poi hanno l'artistic wire poi hanno anche però ho visto anche delle pietre dure le pinze devo dire che un giretto secondo me bisogna farlo online sto parlando di negozi online mi raccomando come non citare hobby perline hobby perline ragazzi continuo a guardarmi abbiate pazienza perché ma sono io la carta di identità allora hobby perline amici hobby perline è un sito che è cresciuto moltissimo negli anni che ha dato il massimo devo dire di se stesso all'inizio non c'era quasi nulla che riguardasse specificamente la tecnica wire adesso trovate trovate molto devo dire è fatto molto bene mi piace ci sono anche tante pietre dure io acquisto acquistato tantissime volte da hobby perline anche le pinze anche pinze un po particolari hanno anche di ottima qualità quindi io mi sento di consigliarlo d'altra parte è anche molto conosciuto molto conosciuto forse non dico nulla di speciale e precious components precious components io non so se sia la continuazione di beats and co vi dico così perché ho avuto quest'idea perché ho già un account aperto su precious components e non mi so spiegare come mai non so se capite anche a voi di avere account aperti su siti internet e vi chiedete quando l'avete fatto quando avete aperto l'account va bene comunque per acquistare su precious components lo dice la parola lo dice l'espressione vende semi lavorati in oro e argento dovete avere la partita iva quindi potete vedere di che cosa si tratta che cos'è in vendita non potete vedere i prezzi per vedere i prezzi dovete aprire un account e appunto avere una partita iva però dategli un'occhiata perché molto interessante ed è un sito italiano tra l'altro a parte il nome poi vi devo parlare assolutamente del nostro caro pelusi che fa il suo sporco lavoro è molto fornito è un negozio di materiali per orafi e io ho acquistato tantissime volte penso che insomma sia piuttosto conosciuto ce ne sono anche altri però io vi parlo di quelli che ho frequentato che conosco so che c'è mealli so che ce ne sono tanti altri ancora insomma siamo in italia ok abbiamo questa fortuna di avere la tradizione ora fa una tradizione ora fa importante però amici vi parlo di quello che conosco quindi pelusi sicuramente raccomandato un sito un po ho visto che l'hanno migliorato bisogna un po cercare però va benissimo e hanno tutto che dire di più che dire di più tra l'altro è vicino credo che sia anche vicino casa mia e questo è affare mio personale ok però hanno un negozio fisico quindi chi vuole si trova a milano credo alle porte di milano se non sbaglio e chi vuole andare può anche andarci fisicamente cooks on gold amici cooks on gold fatemi tornare un momento cooks on gold rimane un sito che tra di noi noi italiani va sempre per la maggiore questi ultimi anni uno dei più seguiti uno dei più amati è un sito inglese hanno un magazzino inglese amici anche se trovate un numero di telefono italiano di roma precisamente quindi una centralinista una segretaria un'esperta non lo so che vi darà delle indicazioni i magazzini sono in inghilterra fate i vostri calcoli può essere sempre conveniente acquistare da cooks on gold non lo so dipende da quello che bisogna che si vuole acquistare però fate i calcoli perché oltre all'iva italiana dovete pagare certamente anche i dazi molto probabilmente a seconda della cifra è qui è qui un discorso complesso un giorno vi racconterò di quando ho chiamato la dogana italiana e mi ha risposto un signore che praticamente mi ha detto si immagini in che stato lavoriamo perché è complesso anche per noi ma questo è un'altra storia questa è un'altra storia però cooks on gold è sempre da guardare è sempre da consigliare giusto ieri cercavo del bezel wire cioè del filo per fare i castoni chiamiamolo filo sapete quella banda per fare i castoni però un po decorativa quindi intagliata eccetera su un sito che non dirò e l'ho trovato a 75 euro 76 30 centimetri di quel filo a 76 euro mi è venuto un colpo ho guardato su cooks on gold e nonostante sia appunto in sterline tradotte in euro il costo era di 25 euro quindi fate vobis bisogna sempre confrontare non si sfugge da questa regola del confrontare i prezzi naturalmente io consiglio sempre anche di dare un'occhiata anche ad amazon ok preferiamo i piccoli rivenditori anch'io però qualche volta siamo costretti a cercare cose particolari anche su amazon quindi qualcosina si trova e se volete dato un'occhiata anche all'elenco degli oggetti che ho messo nella mia lista delle cose che ho acquistato io personalmente da amazon questo è un ultimo consiglio allora amici se volete indicatemi voi da dove acquistate se volete condividere queste informazioni perché possono tornare utili anche ad altri quindi potremmo creare un elenco di luoghi preferiti di siti internet ma anche luoghi fisici perché no di negozi della vostra città qualcosa che possiate indicare ad altre persone perché ci sono delle realtà anche poco conosciute che meriterebbero di essere portate in auge e mostrate anche agli altri quindi se volete condividiamo queste informazioni vi ringrazio vi rimando al prossimo video vi mando un abbraccio ciao